Lo sporco difficile sui pavimenti, le impronte delle mani sporche, l'unto sui fornelli. Ogni giorno devo pulire tutto questo, come posso fare? Usa Vim Liquido, Vim Liquido oggi dà risultati ancora migliori con la sua nuova formula. Guarda che pulizie, sui pavimenti, piastrelle, sui fornelli. Così sono sempre sicura del pulito, sicura con Vim Liquido. La forza di Vim Liquido, senza pietà contro lo sporco più sporco.